Ehm, ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo tornati con un minigame che è una sorta di mix tra Bedwars e Capture the Flag ma basato con dei polli. In particolar modo dobbiamo rubare dei polli, a seconda di quanti polli rubiamo guadagniamo piume che ci danno poteri, power up e Marci non so dove si è diventato perché era qua un attimo fa ma credo sia diventato un poio! Dove sei? Non sei molto incognito. Salve! Salve. Iscrivetevi al mio canale Marci Botanica per favore. Siamo tornati con i canali, però iscrivetevi al canale, lasciate anche like perché se non lo fate domani vi sveglierete come un pollo. I polli sai che fine fanno? Pensavo che dicessi che si svegliavano freddi. Non sotto un po' no, quello è troppo, però i polli comunque negli allevamenti. Andiamo avanti! 3, 2, 1. Star game, bro! Ed eccoci qua. Allora, questo qua è il nostro spawner. Qui abbiamo i nostri polli che non si possono rubare. Questo è lo shop dove tu puoi comprare power up e malus tuoi o per il nemico. Tipo io mi prendo... Non so in realtà che cosa faccio la maggior parte delle cose, quindi le testerò. Quello ho già preso un pollo. Ma cacchio sì, è un po' strano sto posto, eh. E mi sembrava carina, ma oddio ma è un ascensore. Ma è bellissima, bro. È sotto il ponte. No, si apre l'ascensore! Eh sì. Wow. Wow, un po' lo dovrebbe spawnare ogni 30 secondi. Questa staffa io non so cosa faccia. Ah. Carina questa staffa, mi piace. Allora, in teoria tu dovresti... Tu dovresti anche... Quello lì è un uovo che spawn ogni tanto. Quell'uovo dovrebbe essere in grado di darti delle piume. E un bonus o malus a tutti i giocatori. Ora, non so cosa ti dia. L'ha dato solo a te, vero? Non mi ha dato niente. Ok, questa cosa è effettivamente... È strana, ma ho catturato un pollo. Ti consiglio di fare acquisti anche tu. Perché gli acquisti sono molto utili. Per esempio, il Bigenator. Che è? Ma perché scusa sta cosa? Ho un problema. Che cosa? Cioè, io ho spaccato il coso e non mi ha dato niente. È normale. È effettivamente strano. No, però... Lo shop dov'è, scusami? È lì. È quel più che hai nella base. Ok. Sei gigante, bro. Eh, ho avuto un problema. Non ti ho preso neanche. E dai. Ah! Mi hai chiuso. Mi vuoi aprire il cazzo? Aiutami! Vabbè, tu prenditi quello. Che è successo? Oddio, quanti polli! Oddio, oddio. Ma non posso prendere più di uno? No. È questione di velocità qua. È questione di correre e catturare i più polli possibili. È bisogno di qualcosa che mi faccia andare veloce. C'è un power up? C'è qualcosa? C'è sicuro. Non so quale sia, però. Però posso giocare in un altro modo. Se io non posso andare più veloce, posso... Render l'avversario lento. Ok. Ma mi frizzi per tipo un secondo? Senti, ascoltami. Io posso fare questo al momento. Ho solo sei piume. Tu non stai facendo acquisti. Il che... Io so... Voglio prendere un sacco di piume. Sono già a 36 quasi. Ma spendile. Non sono le piume che ti fanno vincere. Lo so, ma voglio prendere magari. C'è qualcosa che costa di più. Non penso che ci sia cose così tanto costose. Mannaggia. Non ti ho preso. Sto perdendo solo tempo a spararti praticamente. Lo so che... Ma il mio piume perché non piumano? Pugli. Il tuo piume non piumano? E i miei pulli non producono piume. Questo non è stato molto utile. Chicken Decoy. Cos'è questo? Guardalo. Hai fatto esplodere tutti i pulli che erano lì. Ma vai a fare... Mi aspettavo qualcosa di più. Posso essere sincero. Con tutto quello che l'ho pagato. Oh, ma stai a fare male. Non c'è l'uscita. Nico, tu hai mie 5 lost a chicken. Le spune in 10 secondi. Sono rimorto. Ma almeno le piume le guadagni facendo sta cosa? O muore e basta? Ne ho 47 attualmente. Penso che le guadagni perché sono ferma a 5 da una vita. O lì. Ah, ok. Devo cliccare di più. Feeder stuff. Chicken ride. Se ci passi qualcosa ti dice che cosa fanno. Chicken decoy. In che senso ci posso sopra? E col cursore. E non mi dice niente. Chicken decoy. Nell'inventario. No, 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 no. Questo non va bene. Questo non va bene per niente. Sei anche avanti di un po' io, tu mi sa. Ho bisogno di qualcosa che mi faccia correre più veloce. Cos'è che c'è? Allora, questo esplode. Questo. Ok. Già ci siamo. Devo imparare a usarle però. Allora, c'è un altro uovo. Non sono così utili come pensavo. Pensavo mi facessero planare. Invece è solo uno slow falling. Sta cagata. Sì, infatti fa schifo. Feeder chest. Hai preso anche tu. Ma da un botto che ce l'ho io. Ok. Ma tra l'altro ho appena notato che la vita è in mezzo allo schermo. È vero, è bellissimo peraltro. Sta cosa mi sa che la ruberò. La ruberò e la riproporrò. In altre cose. Go. A casa. Ma muori. Ti lascio l'uovo dorato se vuoi. Intanto mi prendono gli altri polli. Ma mi hai superato. È giusto. È giusto che sia così. Pezzo di fango. Ma io penso che le feeders ci servissero per qualcosa in più. Eh no, sono lo shop. Questo può servire. Ah, però posso avere uno o l'altro. Sta un po' una cagata, eh. Tra l'altro noi non ci stiamo uccidendo quando rubiamo i polli, però è una cosa che si può fare. Ho messo strength, hai visto? A chi l'hai messo? A tutte e due. Non l'ho notato. Ti avrei inseguito. Allora, mi serve questa che non ce l'ho più. E mi serve questo. Perché questo poio... Andiamo. Ok. Ma cosa fa questo flash egg? E quello che ti fa comparire un coso in faccia. Sto avendo delle difficoltà col mio pollo. Mi... Mi... Il mio pollo ha dei problemi. Pollo, aspetta un momento. Ora torno. Mi è morto il pollo! Dove sei, bro? Eh... Sono in lutto. Purtroppo mi è morto il pollo cavalcabile. Sessanta. Ok. Ne ricompro uno. Corri. E non... Non sponano più polli. Perché sei così grande? Se perdi il pollo... È una buona... No, 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 no. Ma perché non mi funziona lo smallinator? Sì, per una porta... Ma non è giusto! Non è giusto! Così, quando ti blocchi in ascensore, che cosa fai? Ma non è giusto quello che è successo! Lo smallinator... Lo smallinator... Lo smallinator e neanche la mia cosa ha funzionato! C'hanno un delay probabilmente la vita usato. Non so se ti ammunti, che non c'entra nulla il cuore. Ma se... Vedi, a me mi hai battuto. Non ti ho battuto. Hai tre minuti ancora per fare tante cose. Ne compro uno di tutti. Cosa vuol dire chicken time? Ah, quando ne spono un altro? Ah, l'hai preso per ormai quello. Va bene. Va bene, dieci. Contrasta il mio poio. No, sto entrando nella tana del leone. Prendi. Scappa. Plana. Piazzo di... Ehi, 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 ehi. Piano con le parole. Mamma si offende. Dai, ma i polli non sponano più! Dove siete? Ne spona uno ogni... Ne spona uno ogni 30 secondi. Vai con calma. Però effettivamente non sta sponando. Forse spona proprio a 30 e a 0-0, sai? Scopriremo. Non vedo niente! No, non mi uccidere, per favore. Non mi uccidere. Ma quel pollo l'ho visto prima io. No, l'ho visto prima io. Basta, 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 ti pre... Ma perché non ti posso colpire? Perché non ti posso colpire? Non lo so perché non mi puoi colpire. Colpiscimi? La smetti di lanciarmi delle granate? Sì, non ti posso colpire. Spadami! Ma non ti posso colpire! Mi sei un bel pollo! Ma questa è mia. È tua. Vabbè. Niente, io voglio decretare la mia sconfitta. Siamo sicuri che sia mia? Non potevo... Sì, non potevo ucciderti io. Ti continuavo a colpire, ma non potevo colpirti. Secondo me stiamo usando delle scuse qua. Ho il video. Stiamo usando delle scuse. Ora ci penso io. Esploderai. A parte che in un minuto a 30 non puoi raggiungermi, credo. Spero. Ok, non hai preso uno. Puoi raggiungermi, in realtà. Va bene. Vorrà dire... Mi è morto il pollo. Vorrà dire che sarò qui. Ti attenerò. E quando meno te lo aspetti... Nel box. Nel box. Sei finito. Nel box. Eccitazione 90. Genitori. Ma... Sei immortale. No, non sono immortale. Ti ho posto di qua. Ah! Non ci credo, ce l'ho fatto. Sta cosa non va bene. Sta cosa non va... Anzi, in realtà va bene. È tutto secondo i miei piani. Posso rinascere? Pauè. Perché hai bandato il pollo lì? Perché non lo so. Io ce l'ho già. Come c'è... Era un pollo esplosivo. Vai a cagare. Ma non l'ho messo io, l'hai messo tu, eh? Dici? Eh, può essere. Eh sì. Vabbè. È finito. A meno che questo non dia tante cose a me. Cosa mi dà? Ho preso un altro pollo. È finito ufficialmente. Credo che purtroppo per un pollo di vantaggio, purtroppo il pollo ha fatto la differenza. Eh, no, ma devo giocarmi... Dopo me la gioco come so io. Come cosa vuol dire come fai tu? Come so io. Ovvero? Come so io. Attenzione. Potrebbe esserci il pareggio. Ma come fai a saperlo? Ma non è divertente farti gli scherzetti. Ma scusa, ma se suonano i 0 secondi è 30 secondi. Ma magari nell'uovo ne è uscito qualcuno. Ma che ne sai? Ma l'ho spaccato io l'uovo. Red team wins. I'm the red team. Il team di loco. No, no, no. Il team è il mio. Allora, se vuoi ti do una rivincita con 5 minuti. Vai, ci sto. Guarda tu la mappa, perché questa con l'ascensore hai avuto difficoltà. Guarda le miniature. A me piace. A questa, tra l'altro, si chiamava Newly Hulk. Questa no. Questa è Basilare. Questa è una Mongolfiera. Questa è una Sky Wars. Ti viene già una Sky Wars. Bellissimo. Un tempo. Bello! Una del castello di sabbia. Basta. Dai. Un tempo. L'ho di tempo. 5 minuti di tempo stavolta. Come te la giocherai? Vamo sotto il Pontos. Non andiamo sotto il Pontos. Siamo in Gressas. Dove spawnano i pogli? Oddio, c'è il parkour da fare. Il parkour con Sloanest non è bello, eh. Remember. Eccoci qua. Ho già sbagliato un salto. Sei caduto? No. Non del tutto. E non riesco a fermarti. Va bene. Ok. Ti prendo il primo polo di vantaggio. Bravo. Però. Ok. Pezzo di fango. Pezzo di fango. Spero che ti venga il cagotto. Per tutta la vita. Proprio come piace a me. Nel void. Allora. Tra l'altro qui ci sono molti power up che sono inutili. Perché tipo quello del pollo cavalcabile. Non so quanto sia utile. Manco l'ho usato l'altra volta. Non sfrutti appieno le... Oh, c'è un uovo. No, mollami. Lasciami stare. Non puoi fare quello che ho fatto io. Oh, sei esploso. Cioè, sono morto io. Non ci credo. Un cuore. Soltanto un cuore rimarrà. E qualcuno... Chi lo sa. Lo sapevo, è cretino. Lo sapevi. Ho data strength sottenuto. Ma lo sapevo. Era solo per toglierli. Sennò poi mi confondo. Hai un pollo dietro di te. Attento che è esplosivo. Beh? Vuoi fare un giro sotto al Pantos? Ah! Avevi solo un cuore. Avevo mezzo cuore. Non ci credo, sono morto. Sai che avresti tipo... Ma non è vero che sei morto? Non ci credo, sono morto. Ma ti vedo, bro. Lo sapevi. Ma anche qua se un altro pollo esplosivo... Ma tu pensi che io sia scemo? Non so, mi fanno ridere le esplosioni. Bomba! Non sta funzionando la bomba. Ma il pollo? Ah, è vero che fa danno. Il pollo è mio. È vero che fa danno, mi ero dimenticato. Tutto il Pantos! Questo Pantos oggi veramente. Ho shoto il Polos. Questo Pantos oggi... No! Mannaggia. Dammi tipo se fosse. Sto la ganna, bro. No, veramente, non vado a un FPS. Sto spaccando un po' il nuovo. E ha vantaggio agli entrambi. Oh santo il signore! Eh no! Questo non è un bel vantaggio. Tua mamma è un vantaggio! Dai! Adesso sto pollo chi se lo prende? Io me l'ho dato direttamente a me. No, no, no. Molto interessante questo. No, no. Non va bene, non va bene. Poi ci metto una vita a rinascere me. Via dalla mia palude! Qui comando io! Ma perché mi hai lasciato andare? Mi hai dato paura! Avevo solo mezzo cuore. Ma come? Avevo solo mezzo cuore. 35 sei? Non so cosa tu abbia fatto. Mi hai fatto male. Stiamo tornandolo, ragazzi. Stai avanti solo di un poio. Il poio non ti lo porti a casa. Non puoi portarti a casa. Ma perché non sei slonessato? Fai più lento, dai! Ah, è esploso! Qua mi è trolled. Ah, tu è esploso! Anche questo dovrebbe essere fake. No, questo era vero. Oh, cavolo. Dai, dai, dai! Non ti riprendo più! Perché prendi tutti i poie giusti? È nato un uovo gigante. Quanto manca? 20 secondi. Ho perso. Hai perso. Sodo il pondos! Hai perso. Hai perso. Ho bisogno di qualcosa che mi dia più via. Ah, il coso della più vita poteva servirmi prima. No, dai, lasciami stare, lasciami stare. Ho bisogno di fare le mie cose, le faccende domestiche. Ho capito. You win! Blue team wins! Oh, let's go, bro! Se avessi avuto 5 minuti in più... Eh, vabbè, ho capito. E avrei fatto così. Non le sgoschi. Per oggi direi che possiamo terminare. Questi polli spero finiscano fritti. Noi ci vediamo prossimamente con un video, ovviamente scherzo. Ciao. Ciao a tutti! Mangiate sempre pollo. Beh. Buono il pollo, eh? Buono. Ciao. Per i palestrati poi. Sì.